Facilmente noi siamo chiamati, più che chiamati, siamo spinti a scaricare le nostre responsabilità su Dio stesso. Siamo incapaci di portarci bene, di fare un cammino spirituale, eccetera, perché Dio non ci aiuta. No, non è così. Dio sta dalla parte nostra e possiamo anche dire metto continuamente le stampelle per non farci cadere, perché è il peccato, è la tentazione al peccato che è la negazione della santità, il rispetto umano che ci blocca nel bene per paura dell'opinione pubblica. L'attaccamento al peccato. La santità non consiste nell'abbandonare i beni della terra e chiudersi in un chiostro come facevano gli eremiti di una volta. Secondo il dettame delle beatitudini, siamo spinti proprio sull'insegnamento del Vangelo, a vivere nella realtà sociale di tutti i giorni, le beatitudini, beati poveri, beati misericordiosi, eccetera. Il vero male è il peccato che bisogna evitare ad ogni costo, anche al rischio di sofferenze temporali. Vi è ancora il rispetto umano. Tante volte noi non facciamo il bene, perché poi abbiamo paura che qualcuno sorrida sopra al nostro comportamento, che ci siano delle battute spiritose. E allora per evitare tutti questi inconvenienti ci leghiamo alla corrente comune, a come fanno tutti gli altri. Eppure è importante vincere il rispetto umano, perché siamo battezzati e quindi abbiamo la responsabilità di dare la testimonianza del nostro battesimo. Controcorrente, anzi proprio perché siamo chiamati ad andare controcorrente, è molto più bello mostrare la nostra fede. A riguardo è importante educare la gioventù per una testimonianza coerente della propria fede e non essere cassa di risonanza di partiti politici, di professori di università e altri mistificatori di turno. Le tentazioni. Le tentazioni ci vengono dal nostro nemico, il demonio, ma tante volte le tentazioni le creiamo noi stessi con un'abitudine nello stare nel mondo, senza prendere le dovute precauzioni. E quindi le manifestazioni dell'ambiente influiscono negativamente, come trasmissioni televisivi, disimpegno sul lavoro e le bustarelle. I mezzi per l'esercizio della virtù e il segreto della nostra fortezza sta nel diffidare di noi stessi e nel confidare totalmente in Dio. L'esperienza ci dice che riescono ad essere forti proprio gli umili, i deboli, perché essi si abbandonano completamente a Dio. L'esperienza ci dice che riescono ad essere forti proprio gli umili, i deboli, 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 Grazie.